Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 39 nel totale ventunesima di questa seconda stagione. Si è chiuso male il Tour de Force dell'Alma, quattro partite in dieci giorni e l'ultima all'Aquila, dove la formazione Granata è stata superata dalla squadra di casa, un 2-0 maturato già nel primo tempo, nel contesto di una partita in cui è emersa una certa diversità di valori, al di là delle fatiche che l'Alma ha fatto fatica a metabolizzare, soprattutto in queste categorie. Quattro partite in dieci giorni contano e non era certo il campo dell'Aquila, quello in cui cercare di alimentare concretamente una classifica che resta molto complicata. Della partita dell'Aquila, della situazione dell'Alma e delle prospettive che si aprono. Di qui alla fine della stagione parleremo con Gianluca Urbinati, capitano dell'Alma di Ventus Fano. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti e buonasera a te Andrea. All'Aquila dunque non è andata come si sperava. Certo, abbiamo detto, non è facile sopportare lo stress mentale più che fisico di quattro partite in dieci giorni e l'avversario forse non era il più indicato per fare quel salto di qualità che magari anche contro una grande ci si può aspettare da un Fano che cerca di conquistarsi la salvezza. Sì, diciamo che hai detto un po' tutto te, diciamo che eravamo alla quarta partita in dieci giorni che comunque soprattutto anche per la nostra Rosa che non è grandissima e in virtù anche dei problemi fisici che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo eravamo molto risicati, stando poi che adesso stiamo anche recuperando qualcuno, quindi meglio così. Però siamo arrivati a questa partita diciamo un po' al limite delle energie sia fisiche che mentali. Questo non vuol dire però che l'approccio deve essere quello che è stato domenica perché comunque è stato sbagliato, è stato diciamo un po' troppo leggero nei confronti di una squadra di altissimo livello come era l'Aquila e quindi si poteva fare meglio nonostante che ci fossero queste problematiche. Però accettiamo il verdetto del campo ma noi non possiamo fare altro che ricominciare come abbiamo fatto oggi già a sudare sul campo, a lavorare più forte di quello che è di prima, migliorare e guardare a domenica con grande ottimismo perché poi questo Fano non può far conti, deve far punti contro chiunque. Siamo a un punto che non possiamo dire Aquila, Campobasso eccetera. Anche perché le partite sono sempre meno e quindi ogni occasione va sfruttata al meglio. L'Aquila che è partita molto forte, vi ha aggredito soprattutto sul lato destro del loro fronte d'attacco voi al contrario non avete avuto appunto l'approccio migliore, quasi naturale che dopo una serie di opportunità la formazione di casa sia andata in gol lo vedremo tra poco, sempre da quel lato destro l'azione che si sviluppa e poi la correzione vincente di Oreglio. L'Aquila dicevi che ti ha molto ben impressionato, è una squadra ancora in corsa per la promozione forse delle tre davanti, comprendendo nel Novero ovviamente anche Campobasso e San Benedettese quella che in questo momento sembra avere qualcosina in più. Sicuramente oltre ai nostri demeriti di domenica c'è stata una grande forza d'urto dell'Aquila dove anche dal campo si percepiva una squadra forte fisicamente, forte tecnicamente e con grandi anche fammi e motivazioni quindi ovviamente ci credono loro per primis credo e ce la giocheranno fino alla fine. Quando invece all'andata anche in quell'occasione l'Aquila ebbe la meglio più che altro furono la furbizia e il mestiere anche gli episodi a dettare il corso della gara. Sì, assolutamente, era una squadra forse diversa, ha cambiato molti interpreti perché mi ricordo che davanti c'era Galesio che tra l'altro abbiamo affrontato mercoledì con la Matese e mi aveva fatto un'altra impressione dove anzi perlomeno il pari ci stava tutto da parte nostra se non anche a un certo punto della partita avevamo anche lo sprint decisivo per andare a vincerla salvo poi avere un errore di gioventuli, mi ricordo di Mancini mi pare che non lo spazzò la palla e prendiamo un calcio di punizione diciamo gratuito. E' una conclusione da fuori di Angiulli se non ricordo male che decise quel match dicevamo di un'alma che è arrivata piuttosto affaticata a questo appuntamento e di una rosa che appunto non si presenta nelle migliori condizioni perché c'è qualche giocatore che si trascina degli acciacchi in qualche modo va centelinato ovviamente il riferimento è principalmente a Padovani nel tuo caso sei stato costretto ad uscire a metà partita per via di un affaticamento innanzitutto vogliamo rassicurare da questo punto di vista che domenica ci sarai regolarmente? No, no, venivamo da quattro partite in dieci giorni sai le forze erano un po' di meno rispetto a quello che può essere quando prepari la partita in una settimana e a fine primo tempo col mister si è deciso di andare a rischiare oltre per andare incontro magari a star fermi più quindi sì, sì, tutto rientrato oggi già ho ripreso gli allenamenti la squadra comunque è carica già da oggi ho visto che comunque ha percepito che si poteva far meglio si poteva comunque sia contrastare meglio l'Aquila e già da oggi ho visto delle facce vogliose di rivincita abbiamo ricordato il precedente della gara d'andata da allora sono successe molte cose la gran parte poco piacevoli una presidente russo che ha definitivamente dato corso alla sua volontà di disimpegno la transizione societaria ora c'è il presidente guida a appunto comandare come avete vissuto quel lunghissimo periodo e se in qualche modo siete riusciti a mettervelo alle spalle guarda io adesso in questo momento mi concentrerei soprattutto al momento attuale al campo perché ormai come penso che sia risaputo ormai da tutti dominio pubblico quello che è successo in questi 6-7 mesi non vale la pena rimangare niente non vale la pena perderci energie di quelle che già abbiamo perso quindi io direi di stare tutti concentrati su questo grande obiettivo che è la salvezza che sarebbe onestamente come dico ai ragazzi una vittoria più di una vittoria di un campionato sarebbe come vincere tre campionati fare una salvezza in questo anno e sarebbe una grande risonanza per tutti siamo tutti legnati siamo tutti comunque sia ci crediamo ci crediamo anche se comunque domenica non è andata come volevamo c'è massima concentrazione e tutti stiamo rimando veramente su questo grande obiettivo quello che è stato è stato e speriamo che a fine anno si possa raccontare una grandissima pagina di storia dell'alma e di un pericolo scampato i risultati dell'ultimo turno se può essere di consolazione tutte le altre o quasi hanno perso soltanto il Matese è riuscito a superare il Fossombrone al termine di una gara comunque anche quella molto connotata dagli episodi sconfitte dicevamo le altre mentre in testa ha vinto il Campobasso vostro prossimo avversario sull'Avezzano che non è certo avversario comodo ha vinto la Samerettese rimonta su un Termoli che veniva da un lungo periodo positivo e ha vinto l'Aquila appunto contro il Fano largo anche il successo della Vigor Senigallia che affronterete invece la settimana successiva alla gara con il Campobasso classifica situazione che resta decisamente disagevole due punti di vantaggio sulle ultime due Matese che ha raggiunto il vasto Girardi e il ritardo dalla quota salvezza resta di sette lunghezze guardando questa classifica plausibilmente qual è l'obiettivo che l'alma si deve porre la salvezza diretta sarebbe un'impresa che avrebbe del clamoroso però bisogna forse orientarsi proprio sui play-out cercando innanzitutto di metterli al sicuro e poi di guadagnarsi la miglior posizione possibile guarda essendo una squadra estremamente giovane forse la più giovane del campionato bisogna darsi degli obiettivi domenicali bisogna fare il massimo ogni domenica e ogni domenica poi neanche guardare la classifica ma guardarla verso veramente le ultime due o tre giornate perché in questo momento guardare la classifica è deleterio è deleterio per una squadra giovane come la nostra quindi ogni domenica bisogna cercare di fare il massimo di portare a casa la posta in palio la miglior posta in palio cioè tre punti non si ci può più accontentare neanche del punto anche se ho visto che il pareggio di Matese era stato colto da qualcuno in maniera un po' diciamo come due punti persi invece posso assicurare che andarla giù e portare a casa un punto è stato è stato un ottimo punto perché poi abbiamo visto che il Matese è una squadra viva una squadra che ha ci ha sempre avuto individualità cinque sei elementi importanti della quale è difficile spiegarsi questo rendimento così deficitale e poi l'aggiudatore è sempre molto difficile perché è un ambiente particolarissimo non mi stupisce che abbia vinto non mi stupisce che sia tornato in corsa perché hanno avuto un mercato importante ci credono anche loro giustamente bisogna stare attenti dal basso ma bisogna sempre guardare in avanti secondo me bisogna essere sempre ottimisti e con entusiasmo soprattutto una squadra come la nostra quel mercato che nel caso del Matese ha portato giocatori in più e che invece ha nuocciuto pesantemente Alfano ma non riapriamo anche questa pagina che sarebbe ulteriormente dolorosa domenica il Campobasso è la prima della classe è una squadra costruita per salire è una squadra che ha dietro comunque un grande ambiente è una squadra anche in salute perché mi pare che nelle ultime settimane abbia quasi sempre vinto come valuti questa partita anche in questo caso all'andata Alfano fece la sua figura e non avrebbe forse demeritato un risultato diverso assolutamente assolutamente proprio in virtù di quella partita ci deve far capire che le potenzialità di questa squadra sono sono importanti bisogna avere un'autostima importante nonostante che veniamo da una sconfitta anche abbastanza tosta però in casa Alfano può fare qualsiasi partita può vincere contro chiunque l'abbiamo dimostrato con i successi con le big Avezzano Chieti con la vigora fino al novantesimo eravamo su 2-1 la San Mietese l'abbiamo vista tutti la partita con un mezzo tiro ha vinto poi l'abbiamo presi tra virgolette a pallonate quindi bisogna bisogna stare sul pezzo non bisogna avere paura di nessuno non bisogna guardare la classifica e sono sicuro che per il campo basso domenica sarà molto dura sarà molto dura contro il fano che tutti conosciamo quello da battaglia quello che che quando ci si mette in condizioni di fare la partita che deve fare è dura per tutte tra i tanti vicissitudini anche i cambi di allenatore da Scorsini a Cornacchini da Cornacchini a Manoni anche queste sono chiaramente turbative come vanno le cose con il nuovo tecnico no benissimo come erano andate con tutti gli altri perché fondamentalmente abbiamo vissuto due dimissioni cioè tra virgolette quindi è stato un dispiacere grosso per la squadra perché è una squadra che è fatta di giovani e di ragazzi e di bravi ragazzi perché poche volte mi sono trovato di fronte a un gruppo veramente di cuore che ci tiene così tanto che si era legato ereditato questo patrimonio già dall'anno scorso assolutamente perché francamente non mi era capitato spesso nella mia carriera giornalistica di sentire voci così unanime e concordanti sull'integrità e sull'unità di intenti di un gruppo come è accaduto in queste ultime due stagioni assolutamente assolutamente ed è una qualità immensa è su questo che fate leva sì e tant'è che io inizio anno ovviamente credevo di fare un altro tipo di campionato vedendo le qualità di questo gruppo vedendo veramente perché poi non è che bastano la tecnica la tattica la forza fisica conta molto questa cosa che noi abbiamo purtroppo poi ci sono state una serie di situazioni che non torniamoci neanche e ci ritroviamo lì in basso comunque tornando al discorso primario questa squadra si era legata molto al primo mister come si era legata molto a Giovanni e Cornachini e in entrambi i casi veramente c'è stata al momento della chiusura del rapporto una grande emozione tra le parti per far capire quanto la squadra si lega alla persona e si sta legando ulteriormente a Manoni perché la caratteristica è questa di ragazzi che ascoltano di ragazzi che seguono un gruppo tosto che lavora poi se siamo terzultimi qualche problema ce l'abbiamo avuto qualche limite c'è però io credo che con queste con questo spirito con queste caratteristiche si possa se la possa fare perché se no non eravamo qui a parlarne e credo che un aiuto vi possa venire dalla piazza dai tifosi perché un altro elemento che gioca in vostro favore è che i tifosi non vi hanno mai abbandonato in casa e fuori raramente solo in concomitanza di partite al di sotto delle aspettative hanno assunto toni critici ma fino ad un certo punto la piazza di Fano e i loro tifosi sono innanzitutto dei tifosi molto competenti mi viene da dire perché hanno capito la situazione in una maniera incredibile perché non tutti possono capire la situazione perché poi quando sei terzultimo in una piazza come Fano ci sta che ti prendi anche degli insulti ci sta che ti prendi delle critiche ci sta tutto hanno capito che la situazione che stiamo vivendo non è una situazione diciamo normale in questo momento e allora ci sono ci sono venuti in soccorso in tutte le maniere in tutte le maniere mi ricordo anche quanto eravamo dietro con gli stipendi che si pensava al peggio volevano fare una colletta ci hanno dimostrato tutta la vicinanza possibile immaginaria e di questo ne ne va atto e onestamente la squadra sta soffrendo anche il non poter far godere questa gente e non poter ripagare e non poter ripagare a una piazza come Fano il degno la degna posizione perché io sono stato a Fano anche tanti anni fa in C2 la Mioventus Fano in Serie D deve giocare per vincere deve giocare per stare in alto e vederla lì fa male a tutti fa male a noi in primis però io dico sempre che nella nella carriera di una squadra di un giocatore succedono questi anni succedono questi anni dove sembra che va tutto storto dove difficili difficili e se però questi anni difficili si trasformano in grandi obiettivi raggiunti diventa veramente una cosa bella per tutti si scatenerebbe un entusiasmo contagioso nel proseguo degli anni noi speriamo veramente di poter dare la gioia più grossa alla città e ai nostri tifosi che è quella della salvezza in questo momento che sia diretta che sia attraverso i play out non lo so ma veramente ce la stiamo mettendo tutta tutta concludiamo con una bella cosa che è stata festeggiata in occasione di una delle rare vittorie va detto di questa stagione anche inaspettata nelle proporzioni quella contro il Chietti coincisa nel tuo caso con la nascita di un figlio insomma quella giornata resterà nel quadro dei ricordi più belli assolutamente resteranno le 24 ore più belle della mia vita sono stati momenti veramente di grande emozione con la squadra col mister col tifo con i gruppi organizzati gli Utrasfano i Panthers anche il Club Alma e mi ha mi ha mi ha mi ha veramente fatto piacere questa grandissima vicinanza un affetto che neanch'io credevo di meritare tra virgolette perché evidentemente al di là dei risultati diciamo che l'anno scorso sono stati sorprendenti perché è come se mi ha vinto il campionato ma quest'anno sono un po' scarseggianti la persona Orminati ha trasmesso magari una serietà ha trasmesso professionalità all'ambiente mi viene da pensare è la mia più grande vittoria e sono aspetti che un tifoso sensibile accoglie esatto grazie Gianluca Orminati capitano dell'Alma Juventus Fano noi vi aspettiamo fra qualche attimo e torniamo ora ad occuparci di ginnastica ritmica in pieno svolgimento del campionato di A1 al quale partecipa ormai potremmo dire da decenni con qualche brevissima interruzione Laura Raffano di cui torniamo ad ospitare Laura Zucchelli ex atleta di punta ed ora allenatrice e Giulia Della Felice che invece è una delle componenti della squadra che sta gareggiando quest'anno e che ha fatto parte anche di quelle che hanno concorso negli anni passati buonasera e benvenuti ad entrambi buonasera buonasera Laura come stanno andando le cose sesto posto nell'ultima prova quella che si è disputata a Forlì dopo un esordio che ha proposto qualche difficoltà di troppo mi pare che siate comunque in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio campionato sì allora il nostro obiettivo è quello comunque di rimanere in Serie A1 perché abbiamo ginnaste comunque giovani nonostante tutto abbiamo avuto un cambio generazionale quindi abbiamo ginnaste giovani quindi puntiamo a rimanere in A1 speriamo comunque di centrare l'obiettivo le ragazze stanno svolgendo un ottimo campionato siamo partite con la prima prova a Forlì dove hanno gareggiato le ragazze molto bene forse siamo state un po' penalizzate dal fatto che siamo partite per prima abbiamo aperto proprio la prima prova eravamo prima a gareggiare quindi sa la giuria ancora si doveva un po' scaldare doveva prendere le misure sì però siamo molto contenti perché hanno affrontato molto bene la gara così anche la seconda prova a Forlì sono state molto brave abbiamo tra l'altro inserito la nostra straniera che è Vladislava Barilotti e tutte le ragazze si sono comportate veramente insomma hanno fatto delle ottime prestazioni e siamo riusciti ad ottenere un buonissimo sesto posto quindi direi che siamo più che contente e vediamo e vediamo l'opera Giulia della Felice proprio a Forlì nel suo esercizio che è quello delle clavette è la tua specialità diciamo così forse le clavette no però per fortuna in questa gara sono venute bene diciamo ecco immagino che dopo una prova di campionato comunque una qualsiasi esibizione siate le prime a mettere a fuoco le cose che sono andate bene le cose che invece hanno funzionato meno rispetto a questa tua esibizione cosa ci puoi dire in particolare posso dire che sono riuscita diciamo a comportarmi bene in pedana perché in serie A non è facile assolutamente diciamo mantenere la calma la concentrazione perché ognuno sa che deve deve gareggiare per la squadra e quindi deve mantenere ancora di più la concentrazione devi ancora compiere 19 anni però sei la veterana per così dire di questa formazione come interpreti questo ruolo di chioccia chiamiamolo così allora diciamo che non mi sento la più esperta perché comunque anche se ci sono ginnaste più piccole ci alleniamo sempre tutte insieme diciamo che ci scambiamo consigli e quindi ci sentiamo un po' tutte alla pari non mi sento con più esperienza molto modesta e comunque le tue esperienze le hai comunque fatte questo chiaramente ti aiuta ad affrontare le diverse prove con una consapevolezza diversa credo è così? sì assolutamente comunque ho già fatto per vari anni la Serie A e quindi cerchiamo anche io e altri miei compagni che hanno già fatto la Serie A di dare consigli alle più piccole per affrontare questa gara che comunque è molto impegnativa sia a livello mentale che fisico nella preparazione anche e allora illustriamo la composizione di questa squadra mentre potremo vedere tra poco anche l'esercizio credo proprio della ultima arrivata per così dire mentre qui festeggiate la prova di Giulia Laura Zacchilli dice appunto quali sono le protagoniste di questa avventura di questo 2024 Giulia della Felice poi abbiamo Nicole Tammaro che è una ginnasta anche lei di interesse nazionale una bellissima ginnasta dalle linee molto eleganti ecco che la vediamo adesso che ha eseguito nell'ultima prova la palla e poi abbiamo la giovanissima Virginia Galeazzi che l'abbiamo messa in squadra per la prima prova e ha fatto le clavette ed è stato un ottimo esordio un piccolo errore la diciamo non gli ha permesso di prendere un punteggio proprio altissimo ma è stata bravissima e poi proprio invece in quest'ultima prova abbiamo inserito la nostra straniera che è dicevo prima Barilotti Vladislava che è una rifugiata di guerra ed è sotto la protezione del governo italiano e la federazione gli permette di gareggiare come straniera nel campionato di Serie A quindi può fare solamente due attrezzi come tutte le straniere e può gareggiare in Italia come individualista nei vari campionati poi abbiamo una ginnasta che abbiamo tesserato per l'Aurora Fano che è Chiuli Anastasia che ha fatto la prima e la seconda prova e anche lei si è comportata molto bene una ragazza molto carina che si è subito insomma trovata bene con le compagne ecco vediamo che ha fatto il naso nella seconda prova abbiamo detto della novità della straniera che è un pochino in controtendenza rispetto alla scelta che avete fatto in pianta stabile negli ultimi anni quello di dare spazio esclusivamente a ginnaste italiane e quasi esclusivamente a ginnaste che avete svezzato sì diciamo che per noi è stato un arrivo inaspettato perché non abbiamo non l'abbiamo programmata ci è arrivata è comunque una bella ginnasta e quindi siamo state contenti sicuramente di averla man mano che la vedevamo allenarsi ovviamente abbiamo creduto in lei è una ginnasta dolcissima con tanta voglia di lavorare e di dare il suo supporto alla squadra e quindi perché non metterla dentro è molto carina con le compagne è sempre molto disponibile è veramente una ragazza una ragazza d'oro però la priorità resta naturalmente orientata a quelle che sono le ginnaste del vostro vaccino sicuramente abbiamo un grande bagaglio abbiamo molte ragazze giovani infatti come dicevo prima abbiamo un cambio generazionale abbiamo inserito Virginia Galeazzi che comunque ha 13 anni quindi è giovanissima abbiamo tra le altre ragazze posso nominare Aurora Broni abbiamo insomma un'infinità di ragazzine ancora più piccoline che speriamo che prendano il posto di queste ragazze che diciamo grandi ma ancora hanno tanto da dare sicuramente Giulia quando hai iniziato con la ginnastica ritmica cosa ti ha spinto a proporti per questo sport e cosa ci trovi di diverso e di entusiasmante magari rispetto ad altre proposte che da piccolini si valutano nel momento in cui ci si avvicina allo sport sì allora in realtà ho iniziato abbastanza casualmente all'età di 5 anni e diciamo mi sono subito innamorata di questo sport e proprio il fatto di unire l'esercizio l'attrezzo con la musica e diciamo tutto insieme non lo so ti dà quella voglia di esprimere anche te stessa in pedana e quindi questo che mi ha fatto appassionare molto alla ginnastica ritmica una scelta che comporta però un grandissimo impegno vi allenate molto duramente per la larga parte dell'anno sì ci alleniamo quasi tutti i giorni a parte la domenica e quindi a volte è anche difficile conciliare lo sport e la scuola però quando hai una passione così grande diciamo cerchi di organizzarti e di far conciliare il tutto per farlo chiaramente credo sia di grande stimolo lavorare in un ambiente come quello dell'Aurora che ha una grande storia con allenatrici e comunque figure di grandissimo riferimento come è la stessa Paola Porfiri che abbiamo ospitato nei mesi scorsi che resta appunto l'ideatrice in qualche modo la promotrice di questo movimento sì sì assolutamente infatti diciamo io mi sono anche ho preso la motivazione anche da ginnaste precedenti adesso mi ritrovo che sono la più grande però Laura Raffano ha sempre avuto ginnaste molto importanti e quindi è anche da loro che ho preso questa passione e fra queste ginnaste anche Laura Zaccilli cos'è cambiato dai tuoi tempi da quando facevate la 1 per vincerla e la vincevate spesso perché Laura ricordiamo si è cucita la stella sul petto avendo vinto dieci scudetti dieci scudetti sì e posso dirgli di averli vinti tutti è cambiata beh la ginnastica si è si è evoluta tanto è diventata molto difficile sempre molto più competitiva competitiva assolutamente prima magari anche le società le altre società si sono evolute cosa che prima magari c'erano una o due o tre società che spiccavano in maniera insomma spropositata e il resto magari era nella normalità invece adesso la guerra è molto difficile perché tutte le società insomma si sono alzate molto di livello io direi di ricordare anche Nani Londalizze che è la allenatrice principale del lavoro in tutti gli sport ma in questo senso la ginnastica è stata una delle prime discipline in cui non c'è un uomo o una donna solo al comando ma c'è un lavoro di squadra di tecnici come vi distribuite il lavoro ci sono compiti specifici oppure tutti fanno un po' di tutto c'è molta collaborazione tra me e Nani Londalizze a me piace molto fare il lavoro delle piccoline sono onesta mi piace molto far crescere queste bimbe io ho avuto anche Giulia da piccolina che aveva praticamente sette anni non lo so era giovanissima e dicevo che mi piace molto fare il lavoro della base mettere dare a loro tutto quello che io ho imparato in tutti questi anni negli anni da ginnasta e con Nani Nani segue molto le grandi ma mi aiuta molto con le piccole insomma è un lavoro sicuramente di equip quello che ci piace fare lavoriamo in serenità ci confrontiamo spesso sulle scelte e sul lavoro e direi che insomma è un'ottima base per avere dei grandi risultati immagino si sia aggiornata anche molto la metodologia di allenamento assolutamente sì prima magari non c'era tanto la figura del preparatore fisico adesso in quasi tutte le società c'è il preparatore fisico poi anche gli attrezzi per il riscaldamento io prima non avevo assolutamente tutte queste cose adesso vedi le ginnasse che arrivano con il trolley da tutte le cose che hanno da tutti gli arnesi che hanno e quindi sicuramente come giusto deve essere si è evoluta sì molto in tutti questi anni dopo le tue avventure a livello olimpico mondiale comunque internazionale ci si è sempre chiesti ma quando nascerà quando arriverà la nuova Laura Zucchini vedi qualcosa che le somigli speriamo di sì dai adesso Giulia ha avuto dei grandi risultati sicuramente non è facile diciamo che io sono sicuramente stata brava ma molto vuol dire anche a volte la fortuna sicuramente la dedizione l'impegno come ci si propone davanti al lavoro che deve sicuramente richiede tanto impegno e purtroppo a volte queste ragazze questo devo dire il sacrificio non sempre riescono a farlo Giulia assolutamente no è una ragazza che insomma è un modello sì noi la portiamo molto ad esempio sì devo dire le ragazze più giovani a volte già ci scontriamo un pochino forse è quello difficile ecco avere a che fare con l'adolescenza però dai lavoriamo abbiamo come dicevo prima un grande bagaglio e vediamo che cose riusciamo a fare Giulia ti confronti in queste competizioni con ginnaste di altissimo profilo e anche a confronto mettendoti a confronto con queste atlete dove credi di dover migliorare di più di qui ai prossimi mesi e ai prossimi anni diciamo che la cosa bella anche nel campionato di Serie A è proprio vedere i nuovi esercizi di tutte le altre società e prendere sempre un po' spunto sì diciamo così e anche magari nella parte artistica mi sento che potrei sempre aggiungere qualcosa in più e da cui posso appunto prendere esempio anche da da ginnaste più esperte tornando al campionato siamo alla vigilia ormai della terza prova quella che si disputerà se non sbaglio ad Ancone e definirà poi la griglia finale diamo un'occhiata alla formula nel senso che le prime sei formazioni da classifica generale concorreranno poi alla Final Six e quindi allo scudetto le ultime tre se non vado errato retrocederanno in A2 Aurora Fano attualmente collocata all'ottavo posto insomma siete in mezzo al guado realisticamente quale obiettivo si può porre sicuramente dobbiamo fare una gara una bella gara come le altre due prove quindi devono cercare di mantenere ancora di più la concentrazione ripeto che il nostro obiettivo sicuramente è rimanere lì non ci interessa però la Final Six se ci arriviamo chissà ma comunque di certo non è il nostro obiettivo e vediamo questa terza prova come andrà adesso Giulia farà il cerchio che è l'unico attrezzo che gli è rimasto perché le ginnasse non possono ripetere durante le prove gli stessi attrezzi quindi tutte le volte li devono cambiare possono fare un massimo di due attrezzi a gara e in tutto devono fare i cinque esercizi quindi Giulia ha già fatto i quattro esercizi gli attrezzi sono cinque ma la fune comunque non fa parte del campionato Giulia ha già fatto la prima prova a pallenastro alla seconda a clavette quindi questo gli rimarrà il cerchio ecco come te la carico il cerchio? speriamo bene hai dimestichezza comunque? ma a me in generale piacciono molto tutti gli attrezzi quindi non c'è differenza diciamo diciamo di un campionato che ha avuto una serie di dominatori nell'arco della storia i dieci scudetti dell'Aurora poi è stata la stagione dell'armonia Chieti adesso tocca la ginnastica Fabriano in realtà marchigiana che credo sia sulla strada per l'ottavo titolo consecutivo qualcosa del genere dai pensiamo sicuramente sì adesso non vogliamo insomma dire cose che poi però dai sono già a buon punto prendono dei punteggi altissimi hanno comunque la vice campionessa del mondo che è Sofia Raffelli Milena Valdassarri sesta alle ultime Olimpiadi quindi hanno una bella squadra è giusto che sia così che anche questo scudetto sia loro sono una squadra forte ma dietro abbiamo altre società fortissime come l'Udinese c'è la San Giorgio Desio c'è la stessa Armonia d'Abruzzo insomma le società sono tante ma per ora mi sento di dire che la Fabriano è quella più in alto una curiosità non so se dalle immagini si è potuto scorgere alla fine avete indossato degli occhiali allora ci dovete un po' spiegare questo rituale che credo sia legato all'uno fanta qualcosa ecco infanta ritmica che in realtà noi di solito diciamo non partecipiamo particolarmente però in questo caso avevamo fatto bene quindi abbiamo approfittato anche di divertirci alla fine della gara avete indossato questi occhiali con montatura lilla sì una sorta di fantacalcio sono andati alla stessa gara e come è andata lì la competizione non lo seguiamo particolarmente l'andamento sì non so la volta appassionata di queste fantari però è carino che ad ogni gara gli fanno insomma chi indosso chi fa determinate cose prendono dei punteggi e quindi le ginnaste vedi sui divanetti che indossano le cose più particolari mi ricordo anche con uno scolapasta o l'anno scolapasta insomma dai una cosa carina loro si divertono sì per ultimo abbiamo visto questa prova che si è disfrutata al palasport di Forlì si carreggerà poi ad Ancona ormai da molti anni nel calendario del campionato di A1 manca Fano manca Fano perché non c'è un palazzetto dello sport ecco non togliamo questo argomento ma a rischio di essere noiosi però ribadiamo l'appello anche all'amministrazione comunale fanese ormai che verrà direi che sì abbiamo bisogno di un bel palazzetto appunto nella condizione di operare di pensare a questa struttura di cui beneficerebbe non solo la ginnastica ritmica ma anche la ginnastica nel suo complesso come abbiamo più volte sottolineato assolutamente sì perché ai miei tempi se posso dire si organizzava sempre la tappa di serie A ma ovviamente i numeri erano molto più ridotti adesso in quel palazzetto non riusciremo ad organizzare più niente insomma sarebbe anche pericoloso al di là del pubblico basti pensare al numero di atlete esatto sì non ce la faremo quindi assolutamente sì abbiamo bisogno di un palazzetto dello sport grazie a Laura Zacchilli allenatrice dell'Aurora Fano grazie a Giulia della Felice ginnasta dell'Aurora in Bucca al Lupo per la prossima gara noi torniamo fra qualche istante non è la prima volta che accogliamo sportissimo un campione del mondo ma è sempre un grandissimo onore ospitare chi ha conquistato il massimo titolo iridato è il caso di Jordan Valdinocci campione mondiale di kickboxing buonasera e benvenuto buonasera grazie Valdinocci che è reduce lo possiamo dire dalla conquista di un ulteriore titolo mondiale dopo che un'analoga impresa l'aveva centrata un anno fa in un match che si è disputato a Parigi ha conquistato il titolo mondiale di un'altra sigla dopo aver centrato appunto lo stesso risultato nel contesto di un altro ambito diciamo del kickboxing poi ci spiegherai un po' come funziona il tutto la tua storia per cominciare perché il kickboxing e in quale situazione è maturata questa scelta? beh allora la kickboxing in realtà è una serie di motivi come sempre accade quindi sicuramente io ho una una componente diciamo competitiva abbastanza sviluppata e quindi ho sempre fatto lo sport ho sempre inteso lo sport come una sfida con me stesso e ho sempre dato il massimo ho sempre cercato di raggiungere diciamo la migliore versione di me stesso dal punto di vista sportivo quindi ho avuto anche una parentesi da buon pesarese nella pallacanestro e ho cercato di sempre di raggiungere il miglior risultato possibile quindi un po' un mio modo di essere la kickboxing perché appunto forse è il massimo del confronto uno sport da combattimento una disciplina dove veramente si gioca al tutto e per tutto ed è nata poi una passione vera e propria questa è nata inizialmente non ovviamente come un lavoro che poi è diventato ma è nata come una passione quindi nasce sicuramente da uno spirito competitivo e poi diventa una passione e poi un lavoro quindi poi nell'adolescenza anche il tema dell'autodifesa quindi una serie di input sicuramente un tema dell'autodifesa che ricorrerà poi nelle tue esperienze anche di queste settimane vogliamo spiegare brevemente a chi magari non ha familiarità con questa disciplina di che cosa stiamo parlando sì allora fortunatamente tra l'altro gli sport da combattimento stanno crescendo tantissimo e pensate che in questo momento sono il terzo sport terza disciplina nel mondo non come kickboxing ma come sport da combattimento in generale per quel che riguarda i follower non follower di Instagram ma le persone che la seguono a livello mondiale in Italia è stata sempre un po' meno seguita e conosciuta ma negli ultimi anni sta cambiando sta cambiando insomma stanno crescendo molto le persone che si interessano e si avvicinano a questa disciplina e noi lo vediamo anche in palestra tantissimo è una disciplina che la kickboxing K1 quella della quale sono campione mondiale si svolge sul ring da pugilato quindi immaginiamo un classico ring con i guanti simili a quelli della box a volte leggermente più piccoli ma comunque simili e che permette colpi di pugni calci e ginocchi ovviamente io sono un atleta professionista quindi come vedete dalle immagini si combatte senza protezioni solo con i guanti e ovviamente questo comporta una preparazione di un certo livello non siamo dei pazzi insomma c'è un grande lavoro dietro è uno sport singolo ma con un grande lavoro di squadra dietro e quindi ecco il regolamento che normalmente si svolge sui tre round i titoli sui cinque riprese da tre minuti e appunto sono permessi i colpi che le ho accennato è uno sport da combattimento e non un'arte marziale perché negli sport da combattimento ci sono dei paletti che sono le regole e non c'è il vero e proprio gesto specifico dell'arte marziale cioè all'interno di quei paletti si possono portare tutte le tecniche ammesse quindi quando questa tua passione è diventata professione? direi sono passato ufficialmente al professionismo a 24 anni adesso ne ho quasi 32 e quindi un po' di tempo fa tra l'altro mi ero appena laureato in consulenza del lavoro quindi poi ovviamente percorso che a questo proposito risulta che tu abbia due lauree tra un combattimento e l'altro hai trovato modo di ma qui c'è un aneddoto interessante in realtà perché ho fatto feci la discussione di laurea se non ricordo male giusto due giorni dopo il mio debutto da professionista cosa che puoi immaginare che dalla famiglia non è stata presa benissimo visto l'importanza che giustamente si dà a una discussione di laurea però poi andò bene quindi sì comunque appunto avevo intrapreso un percorso di studi in consulenza del lavoro che ho appena terminato e non pensavo sicuramente di passare diventare una teta professionista e di poi costruire tutto quello che oggi abbiamo intorno anche alla mia carriera da teta professionista e quindi è arrivata piano piano con le vittorie io ho iniziato tardi in realtà a 19 anni mettendomi a diciamo dando come dicevo prima allenandomi tutti i giorni già avevo da piccolo un passato nelle arti marziali quindi diciamo l'impostazione è stata sin dall'inizio molto ferrea sì l'impostazione è stata sicuramente ferrea allenamenti tutti i giorni e presa subito per essere il migliore della palestra in quel momento ovviamente da buon competitivo ossessivo si partite dal microcosmo per poi allegarsi al pianeta esatto sì anche perché poi io sono cresciuto tra l'altro in un team anche qui a Fano che non era un team con professionisti quindi sicuramente non pensavo di poi la prima gara me la propongono da persona competitiva accetto la prima gara la seconda finché poi senza cose mi sono arrivato ad affrontare atleti che io guardavo in televisione solo qualche anno prima e quindi è stata la mia carriera è stata molto l'ascesa è stata molto rapida è un fatto che ho pagato da un lato per l'esperienza che avevo inizialmente quando affrontavo un certo tipo di avversari e dall'altro è stata diciamo la mia fortuna perché ho potuto raggiungere in un breve tempo dei traguardi molto importanti direi veniamo alla tua ultima performance roba di qualche settimana fa tra l'altro la gestazione di questo impegno è stata particolarmente laboriosa perché hai dovuto in qualche modo sviluppare la preparazione non nel tuo habitat naturale e hai avuto anche poco tempo per preparare questo match però stando all'esito quel poco tempo è stato più che sufficiente perché hai risolto la pratica in 4-3-4-8 vediamo le immagini di questa sfida parigina con il campione locale Waib come sono andate le cose? ma allora poi magari faremo un accendo sulla preparazione che è stata veramente tanto sofferta perché è arrivata in modo particolare poi magari lo spiegherò l'incontro fortunatamente è durato un minuto e mezzo circa ed è durato così poco perché io avevo un problema al ginocchio e quindi il mio avversario lo sapeva e quindi ha insistito iniziato subito calciando sul ginocchio destro se fate caso e con tanta aggressività perché io molto cinico sì esatto è partito non per arrivare fino alla fine ecco quando uno di due avversari dei due atleti nel nostro sport parte con una certa vemenza diciamo è difficile che l'incontro arrivi fino alla fine quindi la scelta è nel insomma non avevo altra scelta se non alzare molto i ritmi e giocare tutte le carte che avevo già dal primo round a tua volta tentare di accorciare la durata del mezzo esattamente quindi esatto qua si vede appunto il primo colpo alla gamba destra che il mio angolo poi mi ha chiamato mi ha avvisato che aveva accusato il mio avversario e qui arriva poi il secondo che è quello che mette fine all'incontro appunto dopo circa un minuto e mezzo dall'inizio insomma dal gong ecco vedremo il colpo decisivo un colpo molto netto che evidentemente colpisce anche in un punto molto preciso che non consente poi all'avversario di riprendere il match si colpisce in un punto molto preciso e poi come avevo fatto notare prima c'era già stato un colpo precedente nello stesso punto che il mio angolo il mio allenatore dall'angolo mi aveva chiamato mi aveva avvisato di questa cosa perché aveva notato diciamo che avesse accusato questo colpo e quindi il secondo colpo sicuramente ha avuto un effetto maggiore diciamo che è stato quello del K.O. Dicevamo di una preparazione particolare di questo appuntamento una preparazione molto molto sofferta in tutti i sensi accenno al fatto che io a novembre ho preso il mio primo K.O. combattendo fuori categoria di peso perché non si trovavano più avversari della mia categoria di peso quindi sono stato costretto a fare un match in Germania fuori categoria di peso che ho vinto fino all'ultimo minuto dove ho preso un colpo l'unico che però mi è costato un K.O. cosa che non succedeva io vincevo in conti da quattro anni non mi era mai successo di perdere per K.O. ma questo è lo sport insomma basta veramente poco e quindi psicologicamente potete immaginare anche da un K.O. si apprende qualche cosa esatto e adesso lo posso finalmente dire nel senso che sono stati settimane perché poi la chiamata è arrivata subito molto difficili da metabolizzare specialmente per un atleta che è abituato a vincere e tutto per una serie di questioni metti in discussione tutto il tuo percorso metti in discussione inizi a pensare al tema della salute io non ho mai avuto fortunatamente chissà che traumi che colpi però è una cosa che ti fa pensare l'autostima poi mano a mano che cresce la popolarità crescono anche i rischi diciamo della popolarità anche la pressione esatto e quindi poi la gente le persone che possono parlare le aspettative e quindi ero già in un percorso particolare e in quel momento stavo ottenendo dei seminari in Repubblica Dominicana perché per chi non lo sa io tengo seminari di sport da combattimento in tutto il mondo ed ero in Repubblica Dominicana 40 giorni anche pausa che mi serviva anche un po' per staccare in realtà con un infortunio al ginocchio non derivante dall'incontro ma da un aneddoto insieme in sala pesi e quindi ero proprio fuori dalla logica di un incontro nonostante io sempre mi mantengo allenato in realtà c'è arrivata questa chiamata il 28 di dicembre quindi tra Natale e Capodanno io ero sulla spiaggia e con per una serie di questioni non potevamo rifiutare questa sfida e non potevamo neanche avere diciamo possibilità di cambiare la data quindi o il 16 febbraio o nulla cosa che non è troppo corretta ma diciamo che i francesi contano di più degli italiani hanno più movimento e quindi politicamente pesano di più esattamente purtroppo in molti sport questo accade ovviamente eravamo fuori casa quindi eravamo con il promotor diciamo del mio avversario e quindi è stata una preparazione che arrivavo in un momento dove psicologicamente appunto eri un po' provato esatto avevo bisogno di tempo avevo un problema al ginocchio e normalmente solo per la dieta perché noi combattiamo in categoria di peso ho bisogno di 8 settimane minimo per rientrare nella categoria bene invece ne avevamo solo 6 di cui la metà in Repubblica Dominicana e io come dicevo lavoro con una squadra con un team quindi lavoro con un nutrizionista un preparatore atletico un allenatore e là per quanto mi stessi allenando ovviamente non era niente di paragonabile a quello che normalmente ho a disposizione non ho nemmeno una bilancia per pesare il cibo che purtroppo serve quando si e lì probabilmente viene da pensare è scattato un'altra sfida con se stesso sicuramente sicuramente perché avevo bisogno di superare quello che era successo e cosa più importante che forse poi è la ragione per cui faccio quello che faccio e mano a mano che le persone ti seguono e tante mi accorgo di essere ispirazione per tante persone di motivare tanti ragazzi che oggi ce n'è tanto bisogno per me fare vedere che dopo una caduta del genere si potesse reagire in un certo modo in così breve tempo è stata la più grande la più grande motivazione è lì che ho trovato la motivazione perché in un momento così non avevo nemmeno voglia di allenarmi forse e quindi quella è stata veramente la grande spinta e oggi possiamo dire che dalle sconfitte si impara e abbiamo comunicato che è un messaggio molto credo bello e importante tutti siamo umani perché dopo 4 anni di vittoria qualcuno pensa che ho avuto una grande caduta e ho avuto modo di rifarmi nel migliore dei modi quindi sono molto contento abbiamo visto inquadrata la corona che Jordan Valdino ci ha portato qui con sé nel nostro studio corona che si va ad aggiungere a quella che avevi conquistato un anno fa in un match più lungo decisamente non sappiamo quanto più difficile contro un altro campione francese in quel caso appunto Wahib possiamo vedere le immagini anche di quel combattimento che è avvenuto a campione d'Italia se non vado errato tra l'altro in quel caso vetrina televisiva direi di prestigio come sono andate invece le cose in quella circostanza allora io detengo tre titoli mondiali al momento possiamo fare un paragone con il pugilato riguardo alle diverse sigle le sigle diciamo che il titolo Isca che è quello che ho qui di fianco a me è un po' il più istituzionale quindi come c'è nella box il WBC WBC e le federazioni le sigle sono appunto queste federazioni che ci sono come ci sono la box WBC WBO al momento io detengo ne ho vinte tre in totale di mondiali due sono gli Isca quindi qui è dove l'ho conquistato perché in questo momento a campione il detentore era Jamal Wahib e qui l'ho conquistato e quest'anno l'ho difeso quindi sono due titoli diversi ma ovviamente cioè lo stesso titolo la stessa sigla vengono assegnati due cinture diverse perché comunque la conferma equivale alla conquista di un nuovo titolo comunque l'altro titolo l'ho conquistato nel 2021 a Monaco di Baviera ed è invece il WKU che è un'altra sigla mondiale importante diciamo che l'Isca sicuramente è il più riconosciuto a livello internazionale nel senso che tutti i campioni della storia hanno avuto almeno una cintura Isca nella loro carriera e quindi è sicuramente una sigla che tutti i kickboxer conoscono qual è la chiave di questa sfida? di questa il 2023 è stato sicuramente il tempo il timing come potete vedere appunto in questo momento quindi abbiamo giocato tanto sul tempismo sul rompere i ritmi per usare un linguaggio un po' più tecnico ma penso comprensibile del nostro avversario che è un avversario con tantissima esperienza e sicuramente con poca paura diciamo quindi abbiamo lavorato tantissimo sul timing il mess è arrivato fino alla fine quindi 5 round 3 minuti che sono molto lunghi però abbiamo regalato veramente un bel incontro è stato un bello spettacolo e sono contento mi pare di capire che la strategia incida non poco in un combattimento tantissimo nel senso che ci sono vari approcci noi lavoriamo tantissimo col video oggi che li abbiamo a disposizione è facile da reperire e quindi generalmente si lavora tanto sul match nello specifico quindi c'è una preparazione lontana dalle gare generale dove si cerca di ampliare il bagaglio tecnico piuttosto che di lavorare qualcosa che magari non funziona e mano a mano di tutti gli strumenti che abbiamo se ne tolgono una parte si utilizzano solo quelli che si ritiene siano utili ai fini della vittoria dell'incontro successivo il kickboxing o la kickboxing come hai specificato tu è diciamo uno dei fronti del tuo impegno personale perché l'altro l'abbiamo già accennato è rivolto all'autodifesa gestisci una palestra a Pesaro e recentemente abbiamo anche una foto è stato stretto una sorta di accordo con le forze di polizia per sviluppare appunto corsi di autodifesa dedicati agli uomini delle forze dell'ordine che spesso hanno a che fare con situazioni in cui far valere un'autodifesa efficiente è non dico essenziale ma quasi come è nata l'idea tra l'altro proprio di queste ore è una notizia che il nuovo questore Francesca Montereali è campionessa tra virgolette di kickboxing ho avuto modo di conoscere tra l'altro sì è un'esigenza che secondo me c'è da tanto tempo anzi diciamo che già da anni addirittura prima del covid diversi istruttori e agenti di polizia frequentavano la nostra palestra e mi chiedevano bisogno mi chiedevano di questo aiuto anche per un fatto di infortuni sul lavoro e soprattutto perché a volte viene confusa la difesa personale con uno strumento poi di offesa invece serve proprio a non farsi male ma soprattutto anche a non fare male perché quello che insegnano gli sport da combattimento e il programma ad esempio che abbiamo messo in piedi specifico quindi tolto dalla parte sportiva ma adattato alle regole di ingaggio e alle esigenze della polizia è proprio mirato a contenere nel miglior modo possibile a guadagnare tempo e tutte le esigenze diciamo che possono avere dal punto di vista operativo infatti abbiamo aperto una sezione che si chiama la Fight House che è la nostra palestra difesa personale operativa per distinguere dalla difesa personale in generale ma operativa come quella la difesa personale che serve per lavoro e quindi abbiamo iniziato questo progetto che nasce da una collaborazione tra il SIULP il sindacato della polizia e il 28esimo reggimento Pavia di Pesaro dell'esercito con un gruppo misto quindi anche un bel segnale di collaborazione tra le forze dell'ordine tutto fondato basato sulle regole di ingaggio della polizia perché sappiamo che ad esempio con strade sicure anche l'esercito partecipa al controllo del territorio e così nasce questo progetto che è partito proprio sabato il quale da quando è stato diciamo poi sono state pubblicate le foto abbiamo avuto tantissime richieste da varie categorie lavorative pensiamo solo al pronto soccorso pensiamo a tante categorie lavorative che sono esposte al rischio di situazioni poco piacevoli in cui destreggiarsi è fondamentale grazie a Jordan Valdinoci campione mondiale di kickboxing contiamo di averlo naturalmente di nuovo con noi alla prossima impresa grazie a tutti voi per averci seguito anche questa sera vi aspettiamo come sempre la settimana prossima a Grazie a tutti